Buonasera, buona domenica ai telespettatori di Telecolor, bentrovati, il nuovo appuntamento con il nostro approfondimento della domenica, il punto per raccontare i fatti politici della settimana, che cosa è successo? In questa settimana devo dire che sta cominciando a carburare in qualche modo, anche dal punto di vista politico, si avvicinano le amministrative, le coalizioni cominciano a dare qualche spunto di riflessione in più, c'è qualche candidato, poi la settimana in cui è ritornato a parlare Raffaele Lombardo, uscito da 13 anni, lui ha detto ancora di più, è un calvario giudiziario cominciato molti anni fa quando lui era Presidente della Regione e oggi appunto si ritorna a parlare di Raffaele Lombardo addirittura come sindaco di Catania, o candidato sindaco di Catania. E poi insomma una questione che ci ha fatto rizzare veramente i peli, perché è stata divulgata una notizia questa settimana che riguarda i fondi europei, quanti soldi perde la Sicilia ogni anno e negli ultimi anni fondi europei, fondi statali che potrebbero servire proprio ai siciliani, innanzitutto a migliorare la propria terra e a migliorare la qualità della vita. Se ne sono persi tantissimi numeri che fanno davvero rabbrividire e che insomma cercheremo di capire anche oggi a quanto equivalgono poi messi a terra. Vi presento gli ospiti di questa puntata di oggi, partiamo dall'ospite che ho di fronte, Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia. Buonasera D'Agostino, ben trovato, è tanto che non ci vedavamo. Molto tempo, grazie per l'invito. Ci fa piacere. Il vicepresidente di Confindustria Sicilia è il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, lui viene più spesso. Buonasera, grazie per l'invito. È sempre un piacere, tra l'altro Biriaco è uno di quelle che non le manda a dire, quindi anche qua esigenze di Catania ma soprattutto esigenze del tessuto produttivo. E poi il professore Marco Romano che ritroviamo con piacere, che ci darà, come dire, i codici per leggere anche questi numeri, questi fondi europei. Vediamo. In collegamento, Giorgio Assenza, deputato regionale di Fratelli d'Italia. Buonasera Assenza. Buonasera, grazie per l'invito. Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera Sunseri. Buonasera, buonasera a tutti. E Ismaele Lavardera, deputato regionale di Sud, chiama Nord, Cateno De Luca, sindaco, insomma quell'area che fa riferimento a Cateno De Luca. Buonasera Lavardera. Buonasera a voi. Senta Lavardera, prima di mandare la copertina, volevo raccontare questa storia che abbiamo raccontato insieme attraverso questa trasmissione. Come è finito quel concorso dei geologi che avete denunciato? Lei, da deputato regionale, e il suo collega delle Iene come due Iene. Ma è incredibile quella vicenda, perché ricordiamo che quel concorso doveva lavorare proprio per i fondi del PNRR, quindi esperti che dovevano lavorare proprio sui fondi del PNRR, un candidato è stato incredibilmente escluso e ovviamente è andato a processo, si è stato rifatto nuovamente questo concorso e magicamente è arrivato secondo. Ma la cosa incredibile, lo sapete qual è, che questo governo è sordo, perché noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare ovviamente dall'assessore Messina, che oserei dire non pervenuto, io non so bene che cosa faccia. Messina Andrea, ricordiamo che qua in questo periodo... Sì, sì, non Maglio, non Maglio se l'ha andato a Roma, quindi in altri vidi. Io intendo quello cuffariano, di cuffare la memoria, che fine abbia fatto non lo sappiamo, perché io chiediamo informazioni, cerchiamo di capire, almeno una presa di imposizione, un segno di vita, un ciao, non pervenuto. La notizia è che questo candidato che si era rivolto alla giustizia, si era rivolto alle istituzioni, non ha avuto risposta, si è rivolto alle Iene, magicamente da escluso è diventato secondo in classifica, questo ci fa piacere almeno per ristabilire la giustezza e la giustizia. Allora, copertina con i nomi che sono usciti, il sindaco di Catania si è mosso soprattutto il centrosinistra, comunque l'area moderata di centrosinistra, il centrodestra ancora a Tenten e poi la questione di Lombardo nella copertina curata oggi da Francesco Gigante, poi il dibattito. Grazie. 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 evidente che 13 anni non si recuperano e sicuramente se non ci fosse stato questo, chiamiamolo incidente giudiziario, sicuramente avremmo scritto un'altra pagina di storia in Sicilia, non so se è migliore o peggiorare questo. Ha cambiato il corso della storia politica di questa Sicilia. Io ero lì con lui in quell'esperienza, fu un colpo tremendo a prendere di questa inchiesta, si rimane sbalorditi in quei momenti, attoniti, uno non sa cosa pensare. Io posso solamente dire che in Via Pola non avevo mai visto mafia, non avevo mai visto situazioni come queste qua. Dopodiché il processo è andato come sappiamo e quindi voglio dire, diciamo che giustizia è stata fatta, poi quanto sia giusta questa giustizia con questi ritardi di tempo è un'altra storia. Io posso pure dire che nella mia esperienza, l'esperienza Lombardo fu un'esperienza di un presidente che faceva le cose e che fece le ultime riforme nella regione siciliana, che ancora oggi durano peraltro. Insomma, anche qui ci sarà un lungo dibattito su questa vicenda politica e giudiziana. Marco Romano. Io per l'esperienza mia amministrativa posso dire soltanto che... Ricordiamo, lei era alla SEUS. Sì, io ho iniziato al 118, poi sono passato alle attività produttive, quale dirigente generale e contemporaneamente rimettevo in ordine il parco scientifico e tecnologico della Sicilia. Quindi come si commentava prima, scherzando tra virgolette con Nicola D'Agostino, un po' di potere l'ho gestito nella fase del Lombardo all'apice della sua capacità. Quindi ho gestito e ho partecipato alla riforma della sanità insieme all'assessore russo, ho partecipato con la riorganizzazione del servizio 118, la partecipata più importante della regione Sicilia, ho gestito il problema dei fondi comunitari, della spesa dei fondi in un assessorato che era bloccato, credo che c'erano stati già 4 o 5 dirigenti generali prima di me. Quindi sono arrivato in un momento caldo e ho gestito situazioni abbastanza complicate. Per allinearmi a quello che diceva l'onorevole D'Agostino, indubbiamente si viveva sotto pressione, si viveva a ritmi e con obiettivi e con target per realizzare le attività e senza dubbio e con la stessa franchezza vi devo dire che io non ho mai avuto alcun tipo di sollecitazione e questa discussione l'abbiamo anche fatta in commissario antimafia in cui effettivamente capite bene quando sono stato chiamato per altre ragioni e per altri motivi posso dire posso garantire che non ho mai, non ho dovuto mai districarmi tra problemi che per me o comunque interferenze che per me sono inaccettabili, irricevibili e quindi posso ancora una volta dire c'è stato sicuramente un problema nel sistema giudiziario, nella vicenda giudiziaria che per fortuna la giustizia funziona possiamo dire perché se dopo 13 anni è andata come è andata tuttavia dovremmo evitare perché è stato capace di gestire un uomo, non tutti gli uomini, non tutte le donne potrebbero avere la stessa capacità di gestire una situazione del genere. dal punto di vista soggettivo la giustizia ha funzionato, dal punto di vista soggettivo è un po' più difficile da accettare. L'abbiamo visto provato, io sono stato a questa conferenza stampa, ho visto però chiaramente questo è un momento in cui Lombardo torna davvero in pubblico. Assenza, lei che è prima di essere un politico, un avvocato, insomma come la vede questa cosa? D'altro anche lei ha vissuto il periodo di Lombardo, lo conosceva eccetera. Io sono stato eletto per la prima volta dopo la caduta di Lombardo, è una vicenda paradossale come purtroppo però centinaia se non migliaia ne accadono in Italia, il sistema giudiziario deve essere profondamente rivisto, io mi auguro che questa legislatura sia finalmente in grado di farlo e di farlo con serietà. 13 anni di vita distrutta perché di questo si tratta, perché incappare nel tritacarne giudiziario che però quando si tratta di personaggi come Lombardo diventa anche mediatico giudiziario e quindi essere dipinto urbi e torbi come il personaggio vicino ai mafiosi e quant'altro ed essere sulla graticola per 13 anni è veramente un tormento che si potrebbe evitare in un paese civile. solo se si riuscisse a regolamentare meglio l'avvio dell'azione penale con tutto quello che ciò comporta. Lasciatemi qui esprimere la mia piena solidarietà e anche la soddisfazione per l'epilogo finale, però l'epilogo finale non cancella quello che è accaduto prima. Soprattutto non restituisce questi 13 anni a Lombardo. Io vorrei anche un commento da parte di Sun Seri e Lavardera che in modo diverso rappresentano l'opposizione, la critica al metodo Lombardo in tutti questi anni, il metodo Lombardo e anche altri metodi della politica in qualche modo tradizionale. Il Movimento 5 Stelle, Sun Seri è nato proprio in opposizione a tutto quello che c'è stato prima del Movimento 5 Stelle, a prescindere dal colore. In questi casi come ci si pone? Sicuramente dispiace per la persona, soprattutto dispiace che c'è stato un epilogo così lungo perché sostanzialmente 13 anni sono veramente troppi. Io ho sempre valutato il governo Lombardo per quello che non è stato fatto, per cosa è stato fatto male. Oggi paghiamo probabilmente un bilancio disastrato, è colpa anche di quel governo, del disavanzo creato proprio in quegli anni. Ma non è vero assolutamente, ti assicuro che hai un'idea sbagliata. Non è vero assolutamente per un'altra vicenda, potremmo parlare solo per giorni. Ma che dici? Non lo sai? Dici una cosa che non sai. Il banco scientifico-tecnologico ad esempio è un po' di quegli anni che è in vendita non so quanti anni. Però ripeto, non... Luigi, potete rispondere. Scusi, sono in serio, faccio questa precisazione, la faccio se... Avete tutti i microfoni aperti, vi sentite, potete parlare, non vi accavalare. Parla delle cose che sai. Ma stavo parlando io, dico... Non ho detto Agostino, e lui mi sta entromettendo. Dico, se vi avete il piacere di avermi, quantomeno quando mi date la parola posso parlare. Poi il problema è parlare prima di Agostino, io mi metto in silenzio. Prego, prego, sul serio, non c'è priorità a nessuno. Prego. No, ma ripeto, semplicemente io non ho mai valutato Lombardo dal punto di vista politico-penale. L'ho valutato per quello che so e per come ho visto gestire la regione in quegli anni. ripeto, non gli ho dato una valutazione positiva, è una valutazione mia personale, se voi volete proprio spiegare anche nel dettaglio del merito. No, però, su un serio, però dico una cosa, cioè... No, dico una cosa, voi avete festeggiato... Quanti anni ha il Movimento 5 Stelle, su un serio? Siamo nati nel 2009, 10, diciamo. Più o meno sono gli anni della caduta della caduta di Lombardo, quindi insomma anche in Sicilia avete beneficiato di questa antipolitica, verso quel tipo di politica... No, no, dico... È questo, come racconto, no, diciamo... Sì, ma senza dubbio, cioè nel senso è come... Cioè oggi, 13 anni dopo, insomma, questo alla fine non ha fatto niente, cioè è stato... Sì, però io ti credo, io scinderei in due fattori. Uno, quello penale, personale, tutte le vicende che hanno riguardato e che vedono oggi qualunque. Uno è la gestione della regione, cioè posso non essere contenti di quegli anni del governo Lombardo. Al di là del procedimento penale, attenzione, che mi dispiace, soprattutto anche per la durata, perché 13 anni per una persona che sta lontana dalla politica e viene divinata da tutti come essere comunque vicino ad ambienti mafiosi non è sicuramente piacevole per nessuno. E quindi immagino il sollievo e, come dire, la voglia di riscatto di questa persona che ha fatto il Presidente della regione, non ha fatto il secondino l'uscere di qualcosa. Cioè, poi la mia valutazione è sempre stata legata al merito della gestione della regione di quegli anni. Chiarissimo, Marco Romano e poi sentiamo anche la vardera sulla questione. Volevo solo replicare, dico, onorevole, lei può andare su ISU, che è una piattaforma dove ci sono i report digitali navigabili, le troverà la relazione conclusiva della gestione del sottoscritto e noi abbiamo avuto un disavanzo dell'attività corrente di meno 5.000 euro. Abbiamo gestito una situazione in cui c'erano più di tre... E' ancora sta parlando, è qualcosa che è tipico di dono. Stiamo parlando, visto che lei ha... Guarda, ti ho detto che è da cinque anni in perdita. Mi perdoni, però lei consideri che io ho fatto la mia attività nel 2000... Mi perdoni, mi perdoni, soltanto che lei deve contestualizzare. Nel frattempo ci sono stati tre presidenti diversi, tre o quattro consigli di amministrazione, quindi se lei associa alla mia persona e alla mia attività svolta... Ma non ho mai detto nulla di questo direi. No, mi perdoni, invece no, è opportuno che lei chiarisca, si chiarisca le idee, vada, legga la relazione con una situazione di assunzioni del personale reiterato negli anni con contratti che esponevano l'azienda a un gravissimo rischio di contenzioso. Abbiamo utilizzato gli strumenti che allora erano disponibili dalla normativa, abbiamo regolarizzato i rapporti di lavoro, abbiamo allineato quella che era la spesa corrente e cercato di contenere il costo degli ammortimenti dei macchinari e delle attrezzature che erano stati acquistati negli anni precedenti e le posso garantire che io ho consegnato una macchina che aveva un meno 5 mila euro di spesa corrente che probabilmente per qualche aspetto sarà un peccatuccio, ma lei sa perfettamente che quando gestiamo milioni di euro, 5 mila euro sono briciole in una gestione complessiva. Questo per dirle che con lei, col suo partito, abbiamo fatto tante iniziative bellissime, per esempio con Cancelliere abbiamo promosso un'iniziativa allora di recupero degli oli esausti, però c'era allora il rappresentante degli oli esausti a Caltanissetta ed è stata un'iniziativa fortemente promossa e apprezzata dal vostro partito. Mi taccio. Vabbè, è giusta la precisazione, sono serie, insomma, tra l'altro il professore è professore di economia e gestione delle imprese, se dice che ha sbagliato i conti sulla gestione delle imprese, ci può arrivare un pochettino male, è giusta la precisazione, però giusto. Ma io quello che ho amministrato, a quello facevo riferimento, quindi mettiamo un attimo in ordine prima di sostenere e di fare confusione. La Vardera, che ne pensi di Lombardi, di questa storia di Lombardi? Guarda, io credo che un po' la nostra categoria e per nostra intendo anche quella giornalistica rispetto a fatti, diciamo, di questo tipo, dovrebbe un attimo ridescrivere la propria visione delle cose, perché noi dobbiamo imparare a farci anche un bagno nel militare, lo dico con molta onestà intellettuale, e a ricordare che fin quando qualcuno non è in condato in via definitiva, è innocente. E questo ci permetterebbe di ridescrivere anche, queste parole dette da me, caro Luca, valgono credo il triplo rispetto a Lombardo, che dal punto di vista politico non è assolutamente il mio riferimento, quindi io non parlo della questione politica, ho altri riferimenti politici che sicuramente non sono né Raffaele Lombardo né Totò Puffaro. Dico semplicemente che però questa storia onestamente dal punto di vista umano colpisce, perché inevitabilmente quello che poteva accadere con un eventuale processo è una roba che onestamente dal punto di vista umano non è corretta, quindi dovremmo anche rivedere le condizioni della presunzione di docente in questo paese che è un po' malato sotto questo punto di vista, perché la gente comune quando vede che qualcuno legge indagato non sa la differenza tra eventualmente indagato e condannato, quindi questa cosa onestamente dal punto di vista sociologico e dal punto di vista umano dovrebbe completamente essere rivisto il nostro continuamento. Tra l'altro proprio Lombardo ha parlato in questa sua famosa conferenza stampa di gogna mediatica e prima ancora che di gogna giudiziare, prima ancora che di globare giudiziare. Su questo però chiaramente ogni processo ha una storia a sé, perché quando ci sono nel caso di intercettazioni i inequivocabili di soggetti che hanno a che fare con l'ambiente in mezzo è chiaro che l'opinione, quello che una vuole c'è, da caso in caso. Non c'erano intercettazioni sul processo Lombardo? L'ho preciso perché poi si potrebbe, lo sai meglio di me come funziona la televisione. No, no, però facciamo bene a precisarlo, io dico quel caso ho espresso, in generale... Sbagliati, ti puoi mettere poco poco al centro perché sennò non riuscire a fare l'inquadratura, ecco, al contrario, al contrario. C'è tutto in diretta. Va descritto per sé, però ti dico con molta onestà che riferisco e ribadisco che sicuramente l'era Lombardo e l'era Cuffaro sono state quelle più buie dal punto di vista politico della nostra regione. Ma non è vera questa cosa, ma è una bugia, ma perché dite queste cose? Ma ti posso dire Ismaele, 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 perdona, posso, posso... Di avere un pensiero di messo? Sì, ma sentiamo che ha da dire Dallostino. Allora, ascolta Ismaele, così, perché nelle cose poi... Si può benissimo, lo puoi avere su un serie, lo puoi avere tu, un giudizio negativo dell'amministrazione Lombardo perché magari le scelte fatte non piacciono. Ed è un dato di fatto obiettivo e lo puoi avere tu, negativo, come lo puoi avere chiunque perché è giusto, siamo in democrazia, ognuno giudica anche per i fatti perché poi probabilmente dovremmo anche giudicare per le cose che sono accadute. Ma non dimentichiamoci che Lombardo riuscì a fare il presidente effettivo per due anni, che gli altri due anni e mezzo li fece indagato sotto una pressione giudiziaria paurosa e quindi fu col freno a mano tirato. Detto questo, Lombardo trovò una regione siciliana disastrata indebitata fino al collo, un disastro di regione siciliana io ero alla mia prima esperienza parlamentare ed eri in commissione bilancio guarda, puoi informarti con Cateno De Luca che era assieme a me nel Movimento per l'Autonomia ed eravamo tutti e due vice capigruppo dell'MPA di Lombardo fatti dire da lui che cosa abbiamo trovato con Lombardo presidente e soprattutto cosa abbiamo fatto abbiamo fatto 4-5 riforme epocali per la regione siciliana dove ci fu di tutto di più di reazione a Lombardo non ultima la riforma sanitaria che prevedeva il piano di rientro perché i debiti della sanità erano tanti e tali che ancora oggi in corso sta finendo tanti e tali per cui stavamo meritando il commissariamento e solo grazie a Lombardo e a Massimo Russo siamo riusciti ad evitare il commissariamento che sarebbe stato un disastro totale allora dirti che Lombardo è stato un presidente straordinario straordinario ma non scherziamo sui fatti non scherziamo sui fatti l'hanno dimostrato anche quelli che l'hanno succeduto io sfido Lombardo sfido Lombardo a ricandidarsi e a chiedere il giudizio della gente e vincerebbe visto che adesso lo può fare ma vincerebbe se non ha paura io non lo faccia non glielo dico comunque ascolta sei stato un po' imprudente no mai glielo posso fare ma non sono imprudente io lo rifaccio di nuovo e dico a Lombardo e lo dico si sfidi con la democrazia si misuri e vediamo se vince io credo proprio di nuovo ma questo per il futuro ma stiamo parlando ascolta Ismele parliamo del passato non girare la frittata Lombardo sarà qui in questa trasmissione la prossima settimana lo sottoporremo ci racconterà la sua vicenda ma ci racconterà anche cosa è successo in questi ultimi undici anni nella politica dell'MPA che ancora esiste lo ricordiamo il partito vive e beggio ma soprattutto cosa vorrà fare da domani in poi in Sicilia e a Catania quindi l'appuntamento domenica prossima qui con Raffaele Lombardo e insomma e tanti ospiti che lo intervisteranno insieme a me quindi non vi do altre notizie entriamo invece Biriaco un imprenditore se fosse stato undici anni di giudizio già avrebbe mandato a casa tutti morto totale è successo è successo ce ne sono tanti esempi e poi sappiamo benissimo che purtroppo il tarlo del discorso che l'avviso di garanzia e il processo non è un atto definitivo perché ci sono tre gradi di giudizio in questo ti tiene fuori da tutto il sistema contestuale un dramma tuo un dramma alla famiglia un dramma per i tuoi lavoratori in caso dell'imprenditore è successo tante volte è la reale fine di quella che è un percorso di un uomo che si è speso per il territorio e che fa della sua vita il suo primo bagaglio importante e un fatto come questo dell'onorevole Lombardo va a dimostrare che tu per 13 anni sei stato messo praticamente all'agogno di tutto una famiglia che vive malissimo e che tu poi dopo 13 anni nessuno ti restituirà quello che hai perso questo penso io non solo chiedo assenza ma chiaramente se dovesse fare una richiesta di risarcimento allo Stato cosa accadrebbe assenza bene se non erro fortunatamente Lombardo non è stata detenzione Lombardo non ha subito un giorno di custodia cautelare neanche domiciliare e quindi da quel punto di vista paradossalmente non può chiedere nulla è pazzesco anche questo potrebbe chiedere il rimborso delle spese legale nel limite credo di 10.000 euro quindi per 13 anni di processo ma davvero assenza ma davvero c'è solo questo immaginate che cosa solo questo puoi chiedere assenza davvero solo 10.000 euro sì 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 c'è neanche 1.000 euro l'anno questo è uno scopo dell'anno no no 10.000 euro l'anno 10.000 euro l'anno l'avrà spese quanto meno no dico è anche 1.000 euro l'anno c'è stato di più è pazzesco no no questo è un'altra delle 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 ingiustizie del sistema giudiziario italiano perché mentre quando tu vai a processo su Perala di parte e viene assolto con formula piena puoi chiedere la condanna del Perala ai danni alle spese in questo caso l'azione è l'azione punitiva esercitata dal pubblico ministero come è lo stato che attraverso il pubblico ministero esercita l'azione e quindi non si può chiedere nulla se non è perduta da due anni dalla la faccia di biria che pazzesca è una cosa della Caltabia cioè è veramente del ministro e vabbè questa giustizia bisogna ripensarla in qualche modo prima o poi D'Agostino allora ci fermiamo pubblicità e poi e poi cominciamo a entrare nel video della trasmissione di oggi con i fondi europei e statali persi dalla Sicilia sul serio una caporetto avete detto voi no? forse siamo stati troppo buoni dopo la pubblicità rientriamo rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi ancora buona domenica ai nostri telespettatori abbiamo parlato nella prima parte della questione insomma che ha un po' impressionato tutti la soluzione definitiva finalmente dice Raffaele Lombardo del suo calvario giudiziario dal suo calvario giudiziario Lombardo ha parlato in questa settimana insomma ha detto e ha raccontato un po' di roba ricordo Raffaele Lombardo sarà qui con noi la prossima settimana insomma ci racconterà e racconterà ai nostri telespettatori il suo punto di vista personale non lo ha parlato non lo ha fatto ancora con nessuno lo farà in questa trasmissione per i telespettatori di Telecolor allora altro argomento che voglia affrontare in questa trasmissione è la questione dei fondi europei il titolo è una montagna di soldi persi per la Sicilia il Movimento 5 Stelle questa settimana ha portato all'attenzione della stampa all'attenzione dell'opinione pubblica dalla sede dell'Assemblea regionale siciliana una questione che riguarda fondi statali ed europei in Sicilia guardiamo e c'è con noi Luigi Sunzeri che anche conosce le dinamiche dei fondi europei conosce bene insomma come si muovono queste dinamiche in Sicilia è una caporetto persa una montagna di soldi mai peggio di così nella storia un miliardo di fondi statali già persi altri 500 milioni di risorse europee che con tutta probabilità il 31 dicembre di quest'anno faranno la stessa fine Sunzeri ci spieghi di che cosa stiamo parlando ma quando si parla di fondi statali europei è molto difficile provare a spiegare cosa stiamo parlando però provo a darvi tre dati diciamo non smentibili da nessuno il fondo di sviluppo e coesione che sono dei fondi statali era per la Sicilia pari a 2 miliardi e 200 milioni dal 2014 al 2020 l'ultima data utile per fare degli impegni giudicamente vincolanti quindi fare una gara avviare i lavori tutto quello che serve era il 31 12 2022 quindi appena tre mesi fa e la regione siciliana ha perso sostanzialmente un miliardo di euro sui 2 miliardi e 2 quindi ne restano un miliardo e 2 impegnati e spesi sono un miliardo e 2 non spesi e quindi persi persi un miliardo poi abbiamo il secondo che riguarda i fondi europei ad oggi il piano FESR che è il più grande per tutta la nostra regione è di 4,2 miliardi ad oggi la spesa reale certificata è di 2 miliardi quindi la metà dal 2014 ci sono ancora mancano 2 miliardi secondo le nostre previsioni arriveremo alla fine dell'anno dove ne avremo persi più di 500 milioni che si aggiungono al miliardo che abbiamo perso questi sono i dati diciamo in contro un attimo e con questo un attimo un attimo perché se no ricordiamoci tutti lo dico a tutti i miei ospiti in presenza e in collegamento che dobbiamo essere quanto più comprensibili possibili per chi ci ascolta per chi ci ascolta in tv con noi c'è Marco Romano che è professore di economia e gestione delle imprese dell'Università di Catania quindi conosce bene l'argomento il vicepresidente di Confindustria Sicilia Antonello Biriaco Giorgio Assenza deputato regionale di Fratelli d'Italia Ismael Lavardera deputato regionale di Sud chiama Nord quindi con Caterno De Luca su un seri traducendo diciamo come diciamo possono come potevano essere usati questi soldi persi o meglio come sono stati utilizzati quelli che sono stati spesi e come potevano essere utilizzati questi persi per far capire la gente di che stiamo parlando il fondo di sviluppo e coesione cioè quello che abbiamo perso per la maggior parte viene utilizzato per infrastrutture quindi parliamo di strade illuminazione pubblica illuminazione nelle aree industriali io sono andato a riguardare per esempio sapendo che il presidente di Confindustria Catania nelle aree industriali siciliane ASI IRSAF e quant'altro la quasi totalità degli investimenti fatti da IRSAF allora ricadevano sul fondo di sviluppo e coesione quindi quasi tutti gli investimenti erano sul fondo di sviluppo e coesione quindi stiamo parlando di risorse che potevano essere utilizzate per la maggior parte per infrastrutture e soprattutto totalmente svincolate dai vincoli previsti dalla Commissione Europea per i fondi europei lì sì è più difficile realmente spenderli o quantomeno spenderli e certificarli per cose buone il fondo di sviluppo e coesione viene dato dallo Stato nei confronti della regione proprio per sopperire a quelle difficoltà dei fondi europei nella spesa ecco di questi fondi che nell'arco di questi anni sono stati utilizzati dal governo musulmeci soprattutto come se fosse un banco ma io lo chiamo per i comunicati stampa e se volete dopo vi dico il perché di questi fondi ne abbiamo perso un miliardo su un miliardo e due e il ministro Fitto oggi ha ricevuto l'attacco dal ministro Emiliano dal ministro scusate dal presidente della regione Emiliano dal presidente della regione De Luca e il silenzio del presidente Stefani perché in questo momento sta ritirando a Roma tutte le risorse non spese che equivalgono tra i 5 e i 6 miliardi da parte della regione del mezzogiorno perché il piano di sviluppo e coesione dato dallo Stato va all'80% per il mezzogiorno e al 20% per il resto d'Italia Quindi chi è che sta ritirando? Il ministro Fitto 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 sta ritirando tutte le risorse tant'è che sia Emiliano che De Luca Campania De Luca presidente della Campania hanno già alzato le barricate su questa vicenda richiedendo che queste risorse ritornino alle regioni del mezzogiorno e non vengano centralizzate a Roma Allora andiamo con ordine che facevo l'adagostino se date la risposta andrà così le risorse verranno restituite perché è giusto che vengono restituite piuttosto rimane il punto politico correttissimo del perché non sono stati spesi correttamente e questo è un dato di fatto abbiamo assistito per 5 anni a Musumeci che ci diceva che stava spendendo il 101% delle risorse che avevano e non è vero perché non è vero e ha ragione in questo Luigi Gesù in serie e poi se per questo c'è di più ci sono anche dei piani sul fondo sviluppo e coesione dove sono state annunziate le spese sono stati inviati i decreti ai comuni per chiese strade ristrutturazione di immobili e sono tutte e sono forse proprio quel miliardo che sta dicendo che manca e questa è la cosa doppiamente più grave tuttavia posso rassicurare che Schifani in questo si sta impegnando i soldi verranno restituiti alle regioni quando meno sicuramente la Sicilia si riprenderà quello che gli tocca e cercheremo adesso di spenderli come si deve mettiamola così è sempre però in futuro potremmo interrogarci qui Assenza per esempio era col governo musulmeci molto vicino eletto nella scorsa legislatura nel partito di musulmeci Assenza Allora partiamo dal presupposto che questa era la programmazione 2014 2021 il governo musulmeci aveva trovato su questa programmazione spese 17 milioni su quella cifra sono spese un miliardo e due l'altro miliardo dovremmo ricordare tutti che sono per lo più progetti non fatti dalla regione ma fatti dagli enti locali o dai nuclei regionali tipo appunto citavate l'IRFES e quant'altro io posso portare l'esempio della mia città di Comiso dove il 29 dicembre è arrivata la richiesta dell'assessorato regionale diceva le avete impegnati questi soldi per il parcheggio X e è già andato e già è stato pubblicato non è così quando no e allora purtroppo dovete restituirli perché entro il 31 dicembre Agostino dice che non è così assenza Giorgio ecco il famoso miliardo delle infrastrutture dove c'è quel famoso elenco sterminato di finanziamenti che però non avevano la copertura questo no 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 scusa la copertura era con questi fondi però poi la chiesa o il parcheggio o la strada doveva realizzarlo l'ente locale quindi la colpa della regione è fino ad un certo punto la colpa della regione poi purtroppo è caduto tutto al momento del passaggio del governo per cui da giugno a dicembre in pratica l'azione del governo è stata quasi quasi nulla perché poi c'è stata anche quella improvvita legge che approvata nella scorsa legislatura che faceva decorrere la nomina degli assessori solo dopo l'insediamento dell'assemblea per cui tra la vacazio dopo Musumeci l'insediamento di Schifani il fatto che per un mese e mezzo Schifani è stato un uomo solo al comando è chiaro che miracoli si potevano fare fino ad un certo punto aspetta un attimo fermi tutti voglio sentire Lavardera e poi ovviamente voglio sentire Biriego volevo solo aggiungere l'ultima cosa sono d'accordo con Nicola perché fino a ieri abbiamo parlato di questo che molto probabilmente questi fondi verranno restituiti alla Sicilia anche perché come correttamente detto non è questo difetto solo della Sicilia ma purtroppo quasi tutte le regioni meridionali hanno dovuto restituire le cifre anche ben più consistenze ma ci sarà un problema Lavardera dico io ma Luca ma no ma qual è il problema ma io dico alla fine della fiera ma stiamo parlando del fatto che siamo Sicilia le strade sono perfette ma abbiamo bisogno di infrastrutture noi ma che con i soldi e che cosa devono essere spesi a fare ma il tema è un problema però io mi sentirei molto vicino a questo pensiero di Lavardera dico no in qualche guardo Biriaco che già si sta scaldando ma siamo stessi d'antone ma è un discorso non può essere tanto ci ritornano il problema è spenderli perché poi la politica perde credibilità perché il prezzo più alto di tutto questo lo pagano gli imprenditori in un'area quella catanese che genera il 23% del PIL di tutta la Sicilia dove dicevo giustamente poc'anzi l'onorevole Sunseri la zona industriale di Catania l'IRSAP negli ultimi 25 anni non ha spesso una lira gli imprenditori quanto piove non possono entrare nelle proprie aziende può dire per favore al resto della Sicilia che non conosce la zona industriale com'è la zona di Catania il 23% cosa non c'è nella zona di Catania forse qualcuno non sa e questo mi dispiace che il primo stabilimento più grande d'Europa Ener Green Power sta costruendo i pannelli fotovoltaici ST Macro Electronics sta facendo uno stabilimento pilota in Europa spendendo miliardi di euro e assumendo migliaia di persone e tanti altri piccoli imprenditori che investono con i loro soldi enormi quantità di denaro e che non vengono considerati assolutamente da quello che è la normalità di un mio collega veneto bolognese o piuttosto che lombardo che ogni giorno può andare nella sua azienda tranquillamente io vorrei un attimo giusto per la crona un attimo quali sono i problemi di questa zona industriale per dire illuminazione 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 zero il buttaceto tutti alla prima pioggia il torrente io la vivo giornalmente perché ho un'azienda sia la zona industriale che il porto di Catania perciò c'è canali da vent'anni che non si puliscono qualcosina in questi ultimi mesi si è fatto in questi ultimi anni si è fatta ma molto poco per raggiungere quella che è la normalità che un imprenditore deve avere quando investe in un'area siciliana catanese che genera il 23% del PIL di tutta la Sicilia 20 miliardi di euro noi nel 2022 abbiamo esportato 2 miliardi di euro numeri che se fossimo stati adeguati alle altre infrastrutture d'Italia noi andavamo ancora più forti noi non siamo attrattivi la gente va via noi dovremmo fare il contrario dovremmo essere attrattivi è inutile che parliamo di zone economiche speciali restiamo al tema restiamo al tema dei soldi persi cosa si doveva fare con questi soldi cosa avreste fatto con questi soldi cosa si dovevano fatto noi avremmo fatto le cose normali strade illuminazioni marciapiedi pulitura dei torrenti videosorveglianza c'è un impianto che sono stati spesi miliardi di euro milioni di euro di videosorveglianza che non è stata prevista la normale manutenzione non è mai funzionato su un seri si poteva fare la videosorveglianza con questi soldi pensiamo a quello che dobbiamo fare pensiamo anche a quello che non è stato fatto perché poi è là che insomma e allora è d'obbligo riprendere questi soldi e metterli metterli a disposizione il ragionamento non può essere pensiamo a quello che dobbiamo fare d'Agostino qualcuno se lo deve chiedere perché non sono state fatte ho detto io che siamo stati abitati 5 anni ad avere speso il 100 euro che non è vero cerchiamo di fare le cose migliori per concludere dottore Ciliberti molte volte siamo intervenuti noi come imprenditori nelle nostre aziende a spendere i soldi non lo possiamo non lo potevamo l'abitumazione delle strade nella zona industriale non lo potevamo neanche fare perché non si può fare non lo potevamo fare la decespugliazione caro dottore Ciliberti ce ne siamo occupati sempre noi con i nostri soldi mi sono fatto interrompere volentieri dal dottore Ciliberti perché ha detto ovviamente cose birriaco 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 mi pardon non si preoccupa tanto non può diventare anche presidente di Confindustria facciamo gli scongiuri facciamo gli scongiuri miei colleghi scusate il tema qui è ampio ed è esclusivamente politico perché poi le persone che guardano da casa assistono sempre alla solita fatto mima delle risposte delle risposte che non arrivano mi perdono io non ho nulla contro il collega asserenza capisco che lui è il capogruppo di partire di Italia capisco che lui è stato braccio adesso di Nello Musumeci ma se uno come Nello Musumeci non spende i soldi e quando ti fa la domanda Ciliberti caro o senza abbia il coraggio di dire che Musumeci non è stato in grado di spendere quei soldi perché se no la gente da casa ci prende e continua a prenderci a pesci in faccia perché non abbiamo il coraggio di dire quando la politica non fa le cose che dovrebbe fare assumiamoci la responsabilità voglio dirle una cosa mi scusi onorevole guardi il governo Musumeci è stato l'unico in questi anni che ha destinato circa 10 milioni di euro per la zona industriale che sono una goccia d'acqua in un oceano però qualcosa devo dire questi soldi sono stati spesi poi dall'amministrazione dagli assessori è un miliardo l'altro miliardo certo no no voglio dire è stato l'unico che in un certo senso su questo ha dato un contributo piccolo grande come poi ognuno di noi lo può quantificare però praticamente il livello di disattenzione e il livello di negligenza che tutte le forze politiche hanno avuto nei confronti di una zona industriale dove per Catania e per la Sicilia è un volano di investimenti di grandissimo un volano di grandissimi lavoratori l'unico è stato musulmese di aver avuto un'attenzione voglio dire ha spesso ha mandato qualcosa no ha spesso ha mandato qualcosa ha mandato qualcosa c'è una posizione o tutta la poliva compresa musulmese ha sbagliato oppure tutti hanno fatto qualcosa di buono l'ultima dieci mesi sono stati mandati se te ne faccia l'enghi di milioni quanti ne vuoi di quelli di Lombardo quelli di Crocezzo quelli che adesso arriveranno di schifare noi non li abbiamo visti devo dire la verità quei 10 milioni sono arrivati apprezzo l'onestà intellettuale di D'Agostino che pur essendo uomo di centrodestra quando qualcuno sbaglia ha la capacità di dire le cose che sono fatte e le cose che non sono fatte perché la politica questo deve essere se il mio leader Catero De Luca avesse fatto un errore anche nell'amministrazione del Comune di Messina io lo racconterei solo che purtroppo a proposito dei fondi europei Messina è stata la prima città d'Italia in capacità di spesa quindi il tema è questo cioè quando tu devi avere anche la capacità di fare delle cose perché se non le fai la gente da casa continua a vedere che noi ci scarichiamo lo scaricabarile e poi lo scaricabarile non arriva da nessuna parte assenza se vuole replicare a quanto detto insomma poi su un serie e poi io un po' di cose ve le faccio vedere anche con i numeri li mettiamo in grafico come il professore Romano così tanto per capire per fare capire ai nostri telespettatori di che cosa stiamo parlando e dove ci piazziamo noi in Europa perché il nostro orizzonte diciamo di vista non deve essere lo stretto di Messina ma neanche le Alpi ma diciamo più o meno tutta l'Europa e allora tra un po' lo vedremo assenza io voglio dire che in questo periodo di spesa comunitaria metà va attribuita al governo precedente che aveva lasciato al palo si è cercato di recuperare si poteva e si doveva fare di più non dimentichiamo che purtroppo c'è una carenza di tecnici per la progettazione in tutti gli enti pubblici che è una piaga per tutte in questa finanziaria si è inserita una cifra importante proprio per cercare di individuare queste figure in maniera da accelerare la progettazione che è indispensabile poi per la spesa perché altrimenti parliamo del nulla se non abbiamo i progetti pronti i progetti esecutivi da finanziare abbiamo voglia di lamentarci perché i soldi tornano indietro speriamo che con la prossima programmazione si agisca in maniera ancora più incisiva ma occorre lo ripeto una collaborazione tra regione e enti locali e assieme ce l'ha data e non ce la gestiamo noi quindi non andiamo non andiamo da gestire una parte perché ripeto una parte di questo miliardo sono opere che dovevano essere affaltate realizzate dai comuni mi sta dicendo assenza c'era un motivo per cui non sono stati spesi anche perché la filiera non si è completata no non è così non è soltanto così Giorgio in parte questo in parte in parte in parte perché il famoso elenco di miliardo parlo io dell'FSC il famoso elenco di miliardo spieghiamo non tutti sono il famoso elenco di miliardo è stato un atto di zelanderia del governo musumeci nell'ultima fase solo che c'è stato questo elenco molto lungo di piccoli interventi però non è stata non è stata completata l'azione amministrativa che forse Marco conosce bene se non va caricata bene su Caronte che è il sistema della regione siciliana non si allinea con il governo nazionale e quindi non può essere la spesa liberata e quindi la spesa è rimasta sospesa le somme quindi non sono state come dice bene su un seri devolute alla regione siciliana sono ritornate nelle mani di fitto che ce le deve restituire scusate Agostino però il fatto che non si è stata caricata bene perché è stata fatta un po' tardi e non ci sono arrivati sono un po' male 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 scusate non si caricano bene gli ordini sto dicendo i fatti sono un po' male in dubbio però Agostino sono un po' male ragione chiedi se non avevo parlato ribadisco il governo musulmanici negli ultimi mesi sono un seri se si ride ma è così Luigi o no Luigi è così o no ha fatto questa procedura è troppo ritardo sta dicendo quasi tutta la verità dimmi cosa non sto dicendo dimmi cosa dimmi cosa cosa manca parlo di FSC sul FESO ne sai di più tu no 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 parliamo solo del fondo sviluppo e coesione hai ragione a fare differenza sbaglio io a volte a fare confusione tra i due l'FSC è il fondo statale il fondo statale è stato il miliardo di governi è stato gestito per la sua prima parte da da Crocetta e Lumia che riempirono la mia città Termini Merese e la città di Gela e i milioni di finanziamenti del fondo sviluppo famoso patto Renzi Musumeci Musumeci quando si insediò nel 2017 immediatamente fece una delibera che tolse le risorse da Gela e Termini Merese e le distribuì a Catania e altre zone diciamo compatenti al suo lato politico nulla di falso a gestire queste risorse dovrebbero essere per lo più enti locali come diceva giustamente il collega Senza che hanno delle difficoltà oggettive nella progettazione e nella realizzazione di queste opere ed enti regionali la verità di tutta questa vicenda è che sull'FSC i governi della regione sai cosa portavano Luca? se li vendevano con le delibere giunta per dire ti ho finanziato questa strada questo parcheggio questa infrastruttura mi devi spiegare cosa ho detto di diverso cosa ho detto di diverso aspetta 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 la realtà è che quello che dicevi tu quell'elenco a cui fai riferimento dell'ultimo anno di Musumeci e l'ultimo periodo di Musumeci non fa riferimento all'FSC 14-20 che è quello che abbiamo perso ma fa riferimento all'FSC 21-27 che ancora non sappiamo manco a quanto ha morta che Musumeci per finanziarsi per farsi la campagna delle regionali ha abbandonato del tutto l'FSC 14-20 perché sapeva che non sarebbe mai riuscito a impegnare un miliardo di euro in pochi mesi e alla fine dell'anno e si è fatto la campagna elettorale con la 21-27 con la quale ancora ad oggi c'è una delibera famosissima che è la 409 del 4 agosto del 2022 dove ha finanziato centinaia di opere che non hanno manco lontanamente un progetto preliminare ma tipo tipo ma guarda sono veramente centina ma non lo so se mi date due secondi la recupero e ti faccio fare due risate ma siamo veramente allora facciamo così su un serio recupera la lista nel frattempo credo voglio replicare assenze in qualche modo ce l'ho qui se mi permetti guarda ha finanziato per il comune di Aragona di qualificazione patrimonio culturale di via Chiarelli una scalinata Canicattì di qualificazione di pianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali evidentemente il sindaco di Canicattì era un amico adesso non smacco il comune di Bivona la SS 118 Casteltermini riqualificazione urbana del comune di Casteltermini guarda ce l'ho qui davanti stiamo parlando di una lista infinita di opere guarda finanziate con un fondo del quale ad oggi noi non sappiamo nemmeno quanti soldi ha e nel frattempo assenza poi andiamo in pubblicità allora per tutte queste opere c'era evidentemente quantomeno un progetto di massima sono state inserite in questa in questa delibera di giunta il parliamo di agosto a settembre si è votato non vedo quale sia la colpa di musulmanici in tutto questo chi veniva dopo doveva continuare però questo non si riferisce a essere le somme perse attenzione ti ha chiarito dice già impegnato soldi che devono arrivare queste sono le parole di Sunset ovviamente questo col miliardo perso ipoteticamente perso non c'è da nulla però diciamo a quanto ho capito su un seri di correga se il metodo è stato questo è stato per prima e sarà per dopo identico identico quindi questo è diciamo per in qualche modo il metodo è corretto perché per cui c'è un progetto di massimo viene concesso il finanziamento poi è l'ente che riceve il finanziamento che deve attivare il progetto esecutivo invidere la gara e fare iniziare i lavori se questo impegno non è stato fatto entro il centuro di sempre mi dite voi la regione che colpa ne ha allora professore Romano facciamo vedere un attimo un attimo dobbiamo andare in pubblicità sul serio torniamo dopo un attimo conservi conservi la considerazione professore Romano che cosa facciamo vedere dopo allora sicuramente mandiamoli in grafico facciamo vedere dopo la pubblicità sicuramente vedremo l'oggetto immagino del contendere che è la relazione rilasciata il 15 febbraio sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale che è questo che stiamo vedendo dove troviamo il dettaglio delle singole regioni e poi vedremo proprio per apprezzare qual è il grado di avanzamento come dire negli anni e in prospettiva dell'impegno della spesa di questi fondi vedremo un'infografica che mette a confronto i vari paesi europei dove l'Italia è chiaramente fortemente gravata dai ritardi per la quota importante che va al sud come vedrete non è una novità quindi io vorrei dire chiudendo ma ce ne accorgiamo adesso ma lo sapevamo già da tempo pubblicità dopo vediamo le grafiche del professor Romano rientriamo rientriamo all'interno della nostra trasmissione il punto oggi domenica domenica 12 marzo insomma raccontiamo come la Sicilia spende o perde i fondi che gli vengono dati dallo Stato dal Governo Centrale ma anche dell'Europa e che sono quelli che i cittadini il professor Romano non riescono mai a vedere messi in pratica in atto cioè a terra questi soldi ci hanno spiegato i nostri ospiti Antonello Bidiaco vicepresidente di Confindustria Nicola D'Agostino deputato regionale di Forza Italia Giorgio Assenza deputato regionale di Fratelli d'Italia Luigi Sunzeri che è quello che ha fatto insomma insieme al suo movimento il Movimento 5 Stelle e la denuncia questa settimana a Lars e anche Ismael Lavardera di Sud Chiamanordo professore questi soldi che i cittadini vorrebbero vedere poi nelle strade nell'illuminazione nei trasporti magari tutto quello che serve poi a vivere diciamo in maniera molto in modo molto più simile al nord rispetto a quello di adesso allora professore di che cosa parliamo adesso? allora diciamo io credo che vorrei fare un ragionamento semplice la gestione di questi fondi fondi diretti europei fondi tramite diciamo il passaggio a livello nazionale e quindi gestito attraverso i piani operativi nazionali e quelli che poi vengono rappresentati come piani operativi regionali a 360 gradi non entro nel dettaglio presuppone un processo di pianificazione di programmazione di monitoraggio e di controllo dell'avanzamento della spesa come dire asfissiante cioè il burocrate della regione Sicilia viene sottoposto in una come dire in un'attività di continuo controllo delle varie fasi dei vari processi quindi che oggi ci si accorga di questo risultato fa sorridere perché chi fa questo mestiere e chi opera in questo contesto sa che questo è il risultato di una cattiva programmazione non è un problema contingente è un problema sicuramente che ha come una matrice il burocrate deve essere più bravo più preparato e senza dubbio carissimi i burocrati sono tutti lì questo non c'è dubbio la responsabilità politica e la responsabilità amministrativa purtroppo a noi pare che non esista la responsabilità politica è quando tu non riconosci la capacità di una parte politica di raggiungere gli obiettivi e quindi non gli dai più fiducia la responsabilità amministrativa è quando tu hai una struttura burocratica dell'amministrazione in questo caso della regione dei comuni dei chiedi territoriali dei soggetti intermedi che sono stati riempiti con un'operazione artificio finanziario di risorse per come dire allocare spesa che poi non sono riusciti a scaricare a terra dovrebbero essere valutati adeguatamente aggiungo con una nota polemica mi perdonerete poi sto diventando come dire vecchietto e il chi se ne frega di Mario Barresi utilizzato per il territorio di Catania mi sta molto come dire mi irrita molto perché ormai spesso il contesto è vabbè tutti sappiamo che alla fine non si spenderanno tutti alla fine facciamo il gioco delle parti tutti mettiamo la lista lo diciamo tutti non c'è bisogno è una cosa che diciamo tutti il tema è chi se ne frega ma in realtà ci deve interessare perché tutti siamo interessati se facciamo questa trasmissione no 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 chi se ne frega qui no ma chi se ne frega in generale cerchiamo di farlo non può essere basta spieghiamo che succede pensate la regione Sicilia perché quello che ci sta facendo vedere lei non lo guardano i burocrati dico ma pensate la regione Sicilia spende tantissimi soldi di assistenza tecnica cioè non ci sono le competenze abbiamo speso milioni di euro per acquisire competenze professionalità vediamo vediamo le grafiche io credo che il dato più interessante che ci guardiamo così sperando che come dire questo documento che ti invita a guardare possa essere in qualche modo di aiuto al frattempo c'era Sunseri che voleva fare una considerazione su quanto detto poc'anzi Sunseri non lo sentiamo in aspetti Sunseri perché non la sentiamo giusto per fare una precisazione con con l'industria in merito a Dottor Bilevo in merito alla zona di Catania tutti come dicevo i progetti finanziati l'area industriale di Catania devono essere gestiti dalla società Interporti e dall'IRSAP due enti che è abbastanza dall'IRSAP prima dall'IRSAP mi perdonami prima dall'IRSAP e poi dalla società Interporti sono le due che lavorano all'interno della società Interporti di Catania e le assicuro l'IRSAP non ha proprio i bilanci dal 2019 quindi non spende un solo euro dell'FSC e la stessa identica cosa è la società Interporti entrambe con nomine del governo Musumeci ed entrambe ad oggi o meglio solo l'IRSAP a non avere nemmeno un CdA da avere solamente un direttore da non so quanti anni senza avere un consiglio di amministrazione che dà un atto di indirizzo e come se non bastasse il governo Musumeci durante la fine del suo mandato ha deciso di trasferire tutte le infrastrutture illuminazione strade ai comuni al comune al comune allora vi chiedo come il comune di Catania possa gestire l'area industriale di Catania le dico di più l'unico intervento per le aree industriali siciliane è una legge inserita in questa finanziaria voluta fortemente da me che mette 2 milioni di euro nel dal fondo che è sostanzialmente una riserva dal fondo dei comuni solamente e in proporzioni ai comuni in cui ricade un'area industriale perché oggi i comuni dove ci sono le aree industriali sono messi peggio rispetto a tutti gli altri perché si ritrovano a dover gestire infrastrutture e aree che prima non avevano quindi nel momento in cui si è preso liberare dagli ISAP ai comuni come diciamo giustamente per rimanere una buca dovevamo chiedere agli imprenditori e questa è veramente la follia infatti negli ultimi due anni le competenze sono tutte passate al comune alla città metropolitana di Catania e per quanto riguarda c'è poi il progetto per quanto riguarda tutto il discorso delle acque reflu e di tutte alla sidra per dirle che ancora anche persistono aree della zona industriale dove ci sono aziende che ancora non hanno l'acqua corrente la devono comprare con le autobody su questo la sua precisazione è abbastanza chiara che l'IRSEAP poi ha passato tutto le competenze sono da tutte i comuni diciamo con il comune di Catania con l'assessore il governo della regione con il comune di Catania c'è stata sempre un'ottima interlocuzione con l'assessore Cidiaco nel cui è stato sempre molto presente e tutto però o per mancanza di soldi o per mancanza di progetti o per mancanza realmente di quelle che sono i fattori principali affinché si possa gestire bene una zona industriale tutto questo non è avvenuto e quei soldi quando i miei ospiti insomma veramente se poi le aziende tipo la ST se ne vanno a un certo punto o non vengono non capiscono perché accadono alcune cose no Ciliberti non capiscono perché se piove non possono entrare nelle aziende molte volte quando ci sono state le bombe d'acqua i dipendenti sono rimasti dentro le aziende non sono potuti uscire i Ciliberti c'è il problema che poi lei quando parla con gli amministratori delegati di queste aziende francesi piuttosto che lussemburghese ma perché dobbiamo venire a investire fateci capire qual è la convenienza lei come io lo può spiegare allora ci siamo con questi numeri o no? le braccia mi caso direi farei vedere abbiamo provato a rendere leggibile farei vedere un quadro se riusciamo a allora un quadro diciamo non sarà particolarmente leggibile cos'è sta cosa? è difficilissimo questo proprio dimostra come rispetto a due tipologie di fondi FESD e FSE come in Italia tra le diverse regioni evidenziamo il numero perché se no non ci capisiamo l'avanzamento eccetera qui vediamo sul Pio FESD troviamo questo avanzamento adottati al 31-12 i dati che sono stati caricati come diceva prima Norevo Scenda un po' il foglio se non si vedono le voci in alto leggermente eccolo ok e poi quindi qui abbiamo Sicilia vediamo e quindi se guardiamo il dato percentuale pagamenti 56,1% 62,2% è inutile dirlo che in alcuni contesti in alcune regioni abbiamo più del 100% è un ragionamento che vorrei fare non tanto sul numero sul dato perché oggi è tardivo cioè questa attività i nuclei di valutazione tutte le attività che vengono fatte sono fatte continuativamente la verità è che non possiamo più dire chi se ne frega perché c'è un problema di competenze c'è un problema di personale la regione negli anni si è svuotata di competenze sia per i pensionamenti sia per una cattiva come dire anzi un'assenza di reclutamento e poi c'è effettivamente un problema strutturale del nostro modo di gestire i fondi è un problema strutturale che è un problema dato dal fatto che spesso ai noi questi fondi non sono programmati ma vengono utilizzati non in una logica di medio e lungo periodo ma vengono utilizzati in una logica di breve e brevissimo quindi quando un'azienda pianifica in modo a breve e brevissimo ciò che dovrebbe essere utilizzato per obiettivi di medio e lungo periodo chiaramente è un disastro cioè chi fa finanza per le imprese sa perfettamente quindi se non cambiamo prospettiva di analisi se non prendiamo i nostri dirigenti generali e i funzionali e i vari responsabili di procedura e li mettiamo di fronte al fatto compiuto che non è possibile portare a casa questi risultati e non ci sono scuse perché c'è l'elenco e li sappiamo sono sempre le stesse onorevo d'agostino onorevo l'assenza sono sempre le stesse e poi pensiamo che c'è un'assistenza tecnica che gira cuba milioni di euro e mi domando ma chi sono quelli che lavorano l'assistenza tecnica che a volte utilizzano la carta intestata della regione mi viene raccontato per scrivere parti che dovrebbero scrivere un funzionario pubblico cioè una regione che nelle mani dell'assistenza tecnica è o peggio mi sento una regione che non l'utilizza correttamente quelli che sono gli strumenti di diciamo se possiamo vedere un attimo di di appunto piccolissimo si vede male mi chiedo scusa ci spieghi cos'è ci spieghi questo è per esempio un altro strumento di analisi banale semplice se ce la facciamo allora dovrò ricaricarlo un attimo nel frattempo andiamo eccolo qua no aspetta ok vediamo se riusciamo a far partire l'animazione no ricarichiamo va bene continuiamo il discorso cioè quindi se noi non ci confrontiamo rispetto ad un problema concreto reale amministrazione difensiva il burocratio che non firma Pio Festre 115 spesa rifinanziata è arrivato il covid hanno spostato le somme hanno fatto il click day l'hanno messo sulla coesione oggi arrivano i decreti che erano di un progetto che è partito nel 2017 è anacronistico che le imprese non possono realizzare aspetti professore assenza Sunseri D'Agostino Lavardera insomma gli date la risposta al professore Romano per favore il professore ha fatto perfetta nulla da dire non dimentichiamo che c'è da anni il blocco delle assunzioni in Regione e quei timidi tentativi che abbiamo fatto assenza mi scusi però sta dicendo il professore Romano sta dicendo una cosa un po' diversa dice perché se sbagliate voi la gente vi manda a casa e se sbagliano questi funzionari restano dove sono è questo che sta dicendo non sta dicendo prendiamone di nuovi o facciamo lavorare gente che magari lo sa fare sta dicendo o ci si adegua ai tempi oppure bisogna cambiare in qualche modo è un'accusa importante però 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 ti puoi sempre col brodo che hai e quindi puoi spostare il dirigente da un assessorato all'altro però poi tranne 4 o 5 che sono in gamba ma per gli altri c'è veramente da pensare D'Agostino dice non è così Giorgio ascolta dobbiamo avere l'onestà di dire che non è così la verità è che non abbiamo nessuna scusa se abbiamo i soldi non li sappiamo spendere dobbiamo dire che non sappiamo spendere i soldi e la colpa è della politica tanto quanto della burocrazia vuol dire che ci siamo assunti delle responsabilità nei confronti del popolo siciliano lo dico oggi che io oggi faccio parte della maggioranza sapendo che il contesto che abbiamo è quello che dici tu che ha detto anche il professore Romano cioè un contesto comunque drammatico e allora dobbiamo avere l'onestà di dire non si può fare nulla siccome non lo possiamo dire allora dobbiamo fare le cose altrimenti non ci candidiamo e non andiamo a governare quindi occorre fare degli investimenti importantissimi sul modello organizzativo e mettere i direttori generali bravi e poi se il direttore generali dopo un anno non funzionano li mandiamo a casa cosa che noi non abbiamo fatto in questi anni la verità è questa è troppo semplicistico no non è semplicistico così continueremo così continueremo ad autossolverci che non è giusto in Italia mandare via un impiegato un agenziale qualcuno no no i direttori generali i direttori generali lo puoi fare i direttori generali lo puoi fare è come se lo puoi fare però se posso se posso la vardera la vardera è su un seri mi sembra diciamo come dire abbastanza onesto D'Agostino il coraggio di dire la verità non è semplicistico direi dire è semplicemente realistico e quindi il fatto che D'Agostino dica cose corrette mi fa onore sempre per onestà intellettuale però la questione che mi preoccupa è completamente diciamo la fiera dell'improvvisazione rispetto a cose di questo tipo perché la denuncia che ci pone ovviamente diciamo il professore o comunque gente che è tecnico perché poi noi ci fuggiamo sempre a questa cosa che siamo politici e quindi inevitabilmente non possiamo essere tuttologi però nel momento in cui i tecnici ci dicono che ci sono dei problemi e la politica non fa nulla per cercare di cambiare il corso delle cose e anzi come abbiamo visto Ciliberti per il concorso degli esperti che devono utilizzare i fondi appunto del PNRR combiniamo quel patatrack cioè che chi ha merito lo mettiamo alla porta quindi i bravi i tecnici che stanno a fare i progetti li mettiamo alla porta succede poi questa roba qua che c'è una crisi del compatto non sappiamo spendere i soldi e inevitabilmente il sistema va completamente in crisi e quindi dobbiamo assumere c'è la responsabilità di dire che la politica non vuole mettere mano ai fili più scoperti che sono i burocrati della regione siciliana gli altri burocrati che a volte non si è riuscita di fare il loro lavoro professore vediamo cosa ci fa vedere allora dicevo vorrei recuperare un ragionamento non possiamo generalizzare la spieghi bene perché vedo io diciamo in bassa frequenza la grafica ma è piccolissimo questo è un modo di rappresentare l'avanzamento tra la spesa e il pianificato la nostra bandierina la vedete in basso e quindi vedete come la nostra bandierina quindi l'Italia rispetto agli altri paesi questa animazione la possiamo far andare e potete vedere i dati dettagliati in tutti gli anni è disponibile sul sito dell'Unione Europea quindi dal 16 al 22 ma possiamo allargare un po' sì certo ancora ancora perché se no se non si vedono le bandierine eccole qua ricerchiamole ricerchiamole che si muovono ecco per qua quindi abbiamo tutti Contezza in maniera semplice ora dicevo la burocrazia questo lo sa nei numeri nei dettagli siamo sempre sempre fanalino di coda dove questo fanalino di coda è un problema italiano ribadisco un problema di burocrazia per esempio noi abbiamo avanti a tutti è la Finlandia in questo caso è Portogallo anno 2000 piano piano sennò impazziscono mi chiedo scusa c'è la grafica nel 2021 il Portogallo nel 2022 la nazione che ha speso di più i fondi che ha speso più fondi il mio rapporto tra pianificato e spesso pianificato ora io quindi posso voglio dire che risulta essere ovviamente sono dati caricati nel sistema controllati immisurati e quindi questo si può fare per tutti i fondi significa opera a terra certo quindi non vogliamo io non voglio criminalizzare anzi me ne guarderei sono stato protempore un giovane sprovveduto direttore generale dico sprovveduto perché chiaramente il burocratio palermitano ha sempre visto chi arriva dall'esterno con competenze giustamente differenti dalle loro con con una gittima come dire sospetto nel senso buono del termine ok quindi io non dico che bisogna improvvisare e prendere un altro giovane sprovveduto alla Marco Romano me ne guarderei bene il mio risultato l'ho portato a casa allora penso che quindi non eri sprovveduto no però nella percezione nella percezione di quali sono la cassetta degli attrezzi però ti devo dire caro Nicola se posso permetti ma perché scusate perché sul mio tavolo c'erano le cappette ma perché lasciamo parlare delle questioni personali Marco Romano ce ne saranno stati anche altri bravi come Marco Romano perché non non restano lì quelli bravi ah perché non c'è un'attenzione verso il risultato spesso il risultato viene come dire in qualche modo sacrificato sacrificato per altre logiche c'è un modello organizzativo non è per i risultati è una indolenza che è tutta meridionale esatto il che se ne frega che è devastante e la politica non riesce a io vi posso raccontare qualche aneddoto questo è il vero dato culturale perché il problema politico qui non è soltanto quello che dice Marco cioè darsi gli obiettivi perché poi c'è le carpette da firmare il timore dei funzionari a mettere una firma esatto poi c'è la sovrintendenza che dice una cosa il demano dice un'altra lì non si può fare allora ho paura non faccio non firmo quasi quasi mi dimetto aspetto che viene quello dopo di me e questa è una caratteristica generale meglio non fare la politica non ha neppure scusami culturalmente sociologicamente visto che anche questo termine è stato utilizzato da Ismael non ha la capacità la forza devo dire anche l'intelligenza probabilmente di imporsi di fare delle scelte e di dire per esempio se ci sono direttori generali che non funzionano li togliamo tutti questi qui e ne prendiamo di nuovi poi c'è la legge mi dirà Giorgio ha ragione che non ti consente di prendere direttori generali se non in una piccola quota rispetto all'organico che hai e quindi alla fine finisce il cane che si morde la quota però da questo bisogna uscirne e credo che una classe politica che ha un po' di decisionismo deve imporsi in qualche modo ci sarà una strada perché altrimenti rimaniamo schiavi in qualche modo ci sarà una strada per uscire da questa impassa la politica ha applicato al suo ruolo con la legge di Bassanini e questo è vero oggi la politica ormai da anni è pioniera della burocrazia chi determina il successo o l'insuccesso di una determinata azione purtroppo è la burocrazia e tu da politico anche se sei assessore anche se sei ministro tu puoi fare la direttiva ma non puoi fermare l'atto non ti puoi sostituire al direttore generale e quindi bene o male ti devi confrontare quotidianamente con questo apparello quella che è contrabbandata come chissà quale riforma sotto il maglio di Mani Pulite e di quant'altro una politica che teneva da un giorno all'altro di finire in gattabuia ha abiticato per sempre alle frecuzioni ma c'è un partito diciamo perché questa cosa adesso va cambiata è come la storia del Rio per le province cioè va cambiata diciamo va cambiata all'origine a Roma ma non c'è tutti i movimenti tutti i partiti hanno immagino lo stesso problema con gli amministratori locali perché la politica non se ne occupa perché non si punta a cambiarla questa Bassanini cambiare la legge Bassanini è un problema nazionale dico perché per carità ma poi rappresentare la partita si può cambiare si può cambiare si può correggere ma la Bassanini in sé per sé non è esattamente sbagliata perché è chiaro che un assessore che deve firmare un progetto diciamo di lavori pubblici che competenza ha quindi è giusto che sia il direttore generale a firmarlo il problema è che l'assessore deve essere assolutamente nel momento in cui assume il ruolo deve essere nelle condizioni di poter rispettare gli impeghi e quindi se la sua macchina organizzativa non funziona non c'è più la scusa che non funziona la macchina organizzativa perché così non ce ne riusciamo più se no ti dimetti e te ne vai è quello che noi paghiamo ogni giorno è come funzionano le nostre aziende è quello che noi paghiamo ogni giorno perché se c'è durezza alla fine la mala burocrazia è quella che purtroppo non fa andare avanti lo sviluppo ferma le infrastrutture e crea sempre un distacco maggiore con il resto della parte d'Italia posso dire una cosa non è che tutti gli assessorati tutti i dipartimenti funzionano allo stesso modo male esatto a noi serve il risultato finale noi abbiamo bisogno di quei soldi che vengono spesi in tempo bene al fine di poter realizzare quello che effettivamente quei soldi giovano allora ci fermiamo per la pubblicità posso permettere di dirti solo una cosa una previsione ti do un suggerimento per le prossime puntate so che hai tantissimi spettatori per vedere tutta la regione ma soprattutto nel catanese ti lancio una sfida a lancio ai tuoi ascoltatori io sono sicuro che l'agenda urbana di Catania al 31-12-2023 data ultima per certificare la spesa europea quindi i fondi che poco fa il professore citava il Pio Fes certificherà 0 euro sui 50 milioni di euro che ha a disposizione quando la vediamo a 0 euro non intendo 0 euro 1 gennaio oppure se sei coscienzioso lo fai a settembre così vediamo se c'è qualche speranza poi sono qualcuno che ascolta almeno se le vuole le cominci a spendere allora le cominciamo a spendere le cominciamo a spendere allora sfida raccolta va bene vedremo cosa succederà grazie su un seri per il suggerimento allora ci fermiamo l'ultima pausa pubblicitaria chi è? Giorgio Assenza prego io ti chiedo scu però devo abbandonare Assenza prima che vada via un attimo io volevo capire anche un'altra cosa che riguarda i soldi ma che riguarda anche il lavoro di tutti quei precari del covid so che c'è tensione diciamo ancora oggi in regione su questa storia dei precari lo ricordiamo ai nostri telespettatori stiamo parlando di quei lavoratori che hanno diciamo l'operato prestato assistenza tecnica amministrativa e sanitaria durante i due anni del covid come è finita sta storia sono rimasti fuori abbiamo capito che i medici sono stati riassorbiti perché servivano gli altri che fine faranno per gli altri c'è uno spiraglio che è previsto dalla norma nazionale inserita nel mille proro che consente l'avvio di una procedura sempre di selezione che deve riguardare questo personale e però evidentemente con due limiti imparicabili rientrare nel fabbisogno triennale dell'agenda sanitaria e rientrare anche con la copertura nei tetti di spesa previsti però nell'ambito di questo di questo binario per l'avere abbastanza stretto si potrà procedere a una procedura selettiva specifica per questo personale quindi diciamo questa storia chi è? se vuoi te lo spiego io e non politichete se vuoi prego la vardera prego ma in buona sostanza è onestamente il primo vero dissidio e distruzione di questa presunta maggioranza che finge di essere unita ma poi credetemi io che ho partecipato alle regioni di Capigruppo alle regioni di Commissione di Sanità e si è consumato il vero primo strappo politico di questa giunta perché da Roma e ovviamente capisco anche l'imbarazzo del buon assenza che ha cercato o giustamente di difendere la categoria di questi precari covid che ricordiamo hanno svolto un lavoro fondamentale dove nessuno voleva a volte diciamo metterci la macchia perché si rischiava la vita e a queste persone la regione siciliana nella consulenza di quello che è successo il 28 febbraio siamo arrivati in aula scadeva il contratto loro e nessuno sapeva cosa fare a questi poveretti perché nessuno dava indicazioni precise e quindi il Parlamento si è trovato a discutere di una cosa che poi non sapeva perché a Roma volevano una cosa quindi il partito di Fratelli d'Italia voleva qualcosa e invece il resto della maggioranza voleva la cosa opposta quindi tecnicamente alla fine si è consumata il primo strappo politico perché l'assessore volo su questa storia doveva in qualche modo fare un passo indietro solo che poi si sono messi d'accordo come se non la fosse finita la luce pico al discapito di queste persone che ricordiamolo hanno prestato un lavoro fondamentale e quindi il primo vero strappo politico si è consumato e però è come se volo fosse successo assenza è giusta la lettura di Lavardera no evidentemente è vero che c'è c'è una diversità di posizione fra alcune partite della maggioranza ma che questo costituiscono strappo politico non è vero proprio l'altro ieri abbiamo fatto una riunione di maggioranza con il presidente Schifani sono stati molti aspetti fra cui anche questa vicenda ci si sta muovendo mi ha chiamato perché ha capito che mi stava perdendo ma non è vero raccogliendo prima i dati perché se non accertiamo quali sono i reali fabbisogni delle aziende parliamo del nulla e parliamo di aria fritta anche io avrei lo stesso spirito dell'amico Lavardera per dire cerchiamo di trovare una soluzione per tutti però sarei demagogico dire che ci riusciamo senza altro non è così noi dobbiamo avviare un procedimento che consenta alla maggior parte di poter riuscire a rimanere al lavoro e per il resto creare un bacino al quale attingere nel corso di mano a mano liberando le posizioni io devo liberare l'assenza la maggioranza o la crisi di quant'altro ce ne corre io dico una bestemmia se dico che nell'amministrazione pubblica si entra con un concorso credo di no posso sono senza dice su un seri dice dico una bestemmia se dico che nelle amministrazioni pubbliche si entra con un concorso o dice la costituzione quindi è giusto ha perfettamente ragione ma la procedura selettiva è un concorso mi perdono su un seri però quello che prevede la norma nazionale è comunque una procedura selettiva riservata a questo bacino quindi siamo una procedura selettiva fondamentalmente stiamo dicendo tutti la stessa cosa tu pensa che in commissione Giorgio Assente e Ismaele Lavardera la pensavano esattamente allo stesso modo poi chiaramente però ha ragione Ismaele si è creata un minimo di attrito poi io dico minimo Ismaele nella giusta contrapposizione politica dice altro che minimo un massimo politico un minimo il minimo e il massimo corrispondono a che cosa il fatto che purtroppo il desiderio che è comune di poter dare una risposta e quindi avere una pace sociale rispetto a questi giovani che si sono spesi che si sono stati che si sono prestati chi più chi meno ma ci sono stati non si può realizzare perché la legge non lo permette quindi tutti vorremmo ma non possiamo e quindi dobbiamo tutti rientrare nel rang ed ecco perché come ha detto benissimo Giorgio nella riunione poi di maggioranza si è capito che non si poteva fare le punte avanzate e qualcuno che faceva il cattivo dietro e si è trovato il punto d'incontro che è quello che dice la legge peraltro la legge dice con chiarezza quello che ha detto Giorgio Assenze e quindi bisognerà rispettare la legge sarà dura sarà dolorosa ma secondo me ci sono tutte le condizioni se si cammina per trovare delle soluzioni magari non saranno tutte perfette non accontenteremo tutti ma quando anche avremmo accontentato la gran parte si tratta comunque per questi signori di un miracolo allora ci fermiamo pubblicità la regina mi sta chiamando già da un po' grazie Assenze per essere stato con noi grazie va bene così grazie Giorgio Assenze ci fermiamo pubblicità poi l'ultima parte della nostra trasmissione credo ci resta il tempo per i saluti e poco più e fare un minimo di ragionamento sull'amministrativa rientriamo 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 nell'ultima parte della nostra trasmissione ci resta veramente il tempo dei saluti e poco più allora ringrazio Luigi Sunzeri del Movimento 5 Stelle per averci dato comunque anche uno spunto di riflessione abbastanza importante questo dei fondi persi dalla Sicilia mamma mia quanti sono una montagna di soldi persi grazie Sunzeri per essere stato con noi grazie a voi con la speranza che questi fondi non diventino un'occasione persa ma che restino un'opportunità per la nostra regione questo ce lo auguriamo tutti da cittadini grazie a Smeda Lavardera che non vedo più collegato ringrazio per essere stato con noi Biriaco D'Agostino e Marco Romano qualche secondo di riflessione sulle amministrative intanto alla Cireale che succede D'Agostino mi pare che c'è un po' di confusione si voterà diciamo tra 129 comuni che voteranno per l'amministrativa voterà e si troverà finalmente un sindaco buono per la città va bene c'è un po' di confusione tra i partiti è la logica dell'amministrativa normale dialettica delle amministrative insomma dove la coalizione insomma le coalizioni e beh ogni coalizione si forma anche seguendo le proprie storie le proprie sensibilità non ci sono esattamente gli steccati politici definiti come a livello nazionale o regionale e forse è giusto anche così si chiama democrazia giusto così senta dei vicini di Catania che ne pensa che sta succedendo lì c'è qualche responsabilità in più il comune più grande che va al voto il comune più grande che va a votare in tutta Italia quindi dovremmo fare un po' più in fretta voterà tra l'altro due settimane dopo quindi con tutti i riflettori puntati il comune di Catania non solo il fatto che il comune è grande il comune è capoluogo di provincia e anche città metropolitana e noi sappiamo che prima che faremo la nuova legge sulle province che arriverà magari nei prossimi mesi si voterà magari fra mesi se non addirittura fra un anno nel frattempo abbiamo le macerie che riguardano un'intera provincia non soltanto la città c'è una doppia responsabilità e credo che in un momento come questo parliamo di fondi che stiamo perdendo ma che recupereremo di ingenti somme che arriveranno tutti in una volta anche adesso tutte queste somme arriveranno tutte contemporaneamente tra PNR programmazione vecchia che recuperiamo in miliardo programmazione nuova che ancora abbiamo speso un euro e via dicendo arriverà tutto in una volta una barca di miliardi che se un ente grande come Catania e un ente come la provincia non riescono ad intercettare sarebbe veramente un errore colossale dove ce ne dobbiamo scappare tutti quanti senta Agostino ci girano dei nomi per Catania Ruggero Razza Valeria Sudano e mi fermerei qui un po' più dietro questo qui fa parte anche questo della normale dialettica che ci sta io credo che debba innanzitutto parlare il partito che ha il sindaco cosciente che è il fratello d'Italia e debba dire la prima parola debba dire lo vogliamo non lo vogliamo e chi dovrebbe essere il fratello d'Italia da lì inizia poi il vero confronto tra quelli che ci sono in campo per carità tutti i nomi che possono andare bene il problema è se poi sono nomi più o meno divisivi e sui quali poi ci si ritrova tutti in convergenza con i partiti è tornato Ismael Laverdeo allora gli chiediamo a lui insomma cosa fa eccolo qua l'avevo salutato però eccolo qua Ismael cosa fa Cateno De Luca Sud Chiamanord per Catania avete già trovato il vostro spariglieremo spariglieremo non si sente bene sì sì no rispetto a questi mammut della politica che sono in campo che inevitabilmente diceva bene D'Agostino deve essere fratelli d'Italia a dire la sua ma ricordiamo che fratelli d'Italia è poiesimo il quale io Cariara è una persona che stimo eccetera però politicamente bisogna assumere un atto non ha avuto il coraggio di lasciare la città di dire basta è andato questa città a questo commissionamento lungo e infinito se ne è andato a Roma se fece il suo spariglieremo che significa spariglieremo avremo il nostro candidato fuori da ogni schema lo dice il nostro Cateno De Luca ha fatto oggi un poste un nostro candidato probabilmente una roba che non vi aspetterete una roba che non vi aspetterete siamo qui pronti a raccontarla Biria allora immagino che le richieste al prossimo sindaco di Catena saranno le stesse che ha fatto al sindaco precedente a quella ancora prima che poi era quello che c'era ancora prima ancora a maggior ragione in una situazione tale Carlo Ciliberti noi immaginiamo che un sindaco deve avere una visione manageriale deve essere capace di capire che abbiamo un'occasione unica che sono i fondi del PNR se praticamente riusciamo a perdere anche questa riusciamo a perdere anche questa è inutile che poi sono interessantissime questi confronti però dobbiamo fare mia colpa e poi purtroppo qualcuno deve pagare come quando sbagliamo nelle nostre aziende paghiamo in prima persona qui ci sono elezioni anche in Confindustria non guardo che so che lei è scaramantico però no scaramantico è una cosa che si sa a Catania avete individuato il suo successore assolutamente ci sono due candidati chi sono? c'è stata fatta una sintesi fra i due candidati e a breve possiamo dirlo il nome o no? sono i due candidati che si conoscono sono il comandatore Di Martino e l'ingegnere Spampinato fra i due è stata trovata una sintesi sul comandatore Di Martino stiamo aspettando che lo dice piano no stiamo aspettando le procedure perché se prima non andiamo in consiglio generale se prima non andiamo in consiglio generale lei capisce che sono delle cose sono delle cose che per tutti i nostri associati guardi che la provincia catanese ha una Confindustria io su questo sono stato e sono felice di poter essere il presidente una Confindustria che è cresciuta molto negli ultimi anni che conta circa 28 mila dipendenti con 700 aziende per questo le dico i passaggi anche nostri interni sono importanti però sicuramente sono tra l'altro davvero le ragioni delle imprese secondo me devono essere ascoltate molto in questo periodo professore Romano ci rivediamo presto quello che mi auguro in una battuta di 10 secondi è che chiunque si prenda la responsabilità di amministrare questa città abbia una visione e abbia una squadra perché un uomo solo al comando o una donna solo al comando non bastano Catania ha bisogno di tanto c'è un'università importante c'è un sistema produttivo importante ci sono infrastrutture come l'aeroporto il porto e anche il sistema diario che sta fortemente beneficiando di tanti investimenti Catania ha una grande responsabilità per lo sviluppo della Sicilia abbiamo bisogno di qualcuno che sappia attrarre investimenti investire sullo sviluppo sulla crescita economica del nostro territorio solo questo quello che mi auguro poi che raccolga la spazzatura che lo spazzino raccolga le carte e che ci sia un minimo io mi auguro che ci sia qualcuno che sappia programmarli stifoni perché se no li perdiamo tutti grazie a professore Romano grazie Antonello Birieco Presidente di Confindustria Catania Vice Presidente di Confindustria Serie grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino ad ora ricordo l'appuntamento per la prossima settimana ci sarà qui forse al posto dell'onorevole D'Agostino Raffaele Lombardo che ci racconterà questi 13 anni di calvario giudiziario e poi ovviamente tanta politica a domenica prossima buonanotte a tutti grazie grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri